Kimsukopa Majataka, l'albero Kimsuka. Un tempo Bramadatta e il re di Benares aveva quattro figli. Un giorno mandarono a chiamare il carrettiere e gli dissero, vogliamo vedere un albero Kimsuka, mostracelo. Benissimo lo farò, rispose il carrettiere, ma non fece vedere l'albero a tutti contemporaneamente. Prima portò il maggiore nel carro nella foresta e gli fece vedere l'albero proprio quando le gemme stavano sbocciando dal tronco. Al secondo glielo fece vedere quando le foglie erano verdi, al terzo al momento in cui era fiorito e al quarto quando aveva i frutti. Dopo questo i fratelli erano seduti insieme e uno chiese che tipo di albero è il Kimsuka? Allora il primo fratello rispose assomiglia ad un moncone bruciato. Il secondo disse è come un banano e il terzo è come un pezzo di carne rosa con tutti quei fiori e il quarto è come una caccia. Tutti si arrabbiarono a sentire le risposte degli altri e corsero dal padre. Signore chiesero che albero è il Kimsuka? E voi che ne dite? Chiese. Loro gli ripeterono le loro risposte. Il re allora disse tutti voi quattro avete visto l'albero solo quando il carrettiere ve lo ha fatto vedere non gli avete chiesto come è l'albero in altri momenti dell'anno. Non avete fatto distinzione e questo è il motivo del vostro errore. E disse la strofa tutti avete visto l'albero Kimsuka perché siete perplessi. Nessuno ha chiesto al carrettiere che aspetto ha durante tutto l'anno.